Questa mostra nasce col desiderio di raccontare gli 800 anni di presenza francescana in Terra Santa, per raccontare quella che è stata l'eredità di San Francesco, che nel 1217 manda, in occasione del capitolo delle Stuoie, i frati francescani proprio nella terra dell'incarnazione. Da allora i francescani non se ne sono più andati, sono rimasti con una presenza buona, discreta, misericordiosa per aiutare tutti, innanzitutto per conservare i luoghi della redenzione e poi per aiutare le persone che attorno a questi luoghi sono andate a vivere. Allora siamo presenti, sono presenti i frati francescani in sette paesi del Medio Oriente, Israele e Palestina certo, ma anche l'Egitto, il Libano, la Giordania, l'Egitto, Rodi e Cipro per custodire i luoghi santificati dal passaggio di Gesù di San Paolo, ma per stare accanto anche alle persone che attorno a questi luoghi sono andate ad abitare. In alcuni di questi luoghi, penso ad esempio la Siria, oggi sono colpiti da un'emergenza umanitaria senza precedenti.